che spasso è l'ora di grammatica è anche per mattia è un grande divertimento tant'è che spesso si appisola sul banco il professore quel giorno lo sveglia e per punizione lo manda in biblioteca ebbene sì allora mattia si incammina arriva nel corridoio dove i ritratti di vecchi alunni del passato salutano gli allievi del momento strane pettinature vecchi alunni che sembrano più vecchi della loro età la biblioteca però momentaneamente è chiusa bibliotecare non c'è e mattia però a un certo punto si sente chiamare ehi che sei venuto a fare mi ha mandato il professore a bene bene chi sta parlando è un ometto basso sgradevole che mattia non aveva mai visto prima e questo ometto con sicurezza che dice ha fatto bene il professore lei mi sembra un ottimo esemplare era ora che svolgesse il suo lavoro di procacciatore quello là mi segua matteo mattia e segue questo individuo entra in biblioteca si siede più lontano possibile da lui che va subito a posizionarsi dentro il banco ma questo strano soggetto gli s'avvicina gli fa una proposta gli propone un lavoro di andare qualche sabato in biblioteca quando la scuola ovviamente chiusa per inscatolare vecchi vecchi libri che si trovano nei magazzini della biblioteca libri che non usa più nessuno mezzi rotti e per fare questo lo pagherà ma chi è che insomma ha sempre bisogno un po di avere soldi in tasca accetta quindi il sabato successivo si trova allora pattuita il signore lo fa entrare lo chiude con più mandate la porta della biblioteca e lo porta verso un'altra porta dove c'è una specie di sgabuzzino con qualche libro accatastato e lì apre un montacarichi con questo montacarichi scendono verso non si sa dove perché dura un po questa discesa e arrivano in uno stanzone all'inizio totalmente buio inquietante poi vengono accese le luci al neon Mattia si trova in un enorme magazzino pieno di banchi sfasciati accatastati sedie mappamondi vecchie cartine e andando avanti ci sono anche bocce strane probabilmente con resti di esperimenti scientifici ma anche insetti infilzati con spilli che sono probabilmente qualcosa legato al laboratorio scientifico e chissà prima c'era a scuola ci sono anche pappagalli imbalsamati serpenti imbalsamati e più va avanti più scopre anche animali strani tipo un pepistrello enorme e questo signore poi lo porta nel vero deposito dei libri che sarà quello dove Mattia dovrà compiere il suo lavoro e gli dice bene ti sei portato da mangiare e Mattia ovviamente pensava di stare un po di ore ma non vabbè te lo porterò io e se ne va Mattia sente di nuovo il rumore delle chiavi delle mandate delle chiavi e prova comincia a fare questo lavoro questi libri sono intrisi di polvere li deve scuotere vedere se c'è qualcosa dentro e comincia però a osservare che libri sono molti sono libri scientifici che parlano appunto di tassidermia cioè la scienza per imbalsamare gli esseri viventi che parlano di scienziati che avevano studiato il cranio dei delinquenti per capire se anche nel fisico chi era predestinato a compiere reati potesse avere delle connotazioni particolari il tempo però passa questo strano individuo non torna Mattia non sa nemmeno quasi meno male al cellulare lui non è molto attaccato al cellulare per fortuna però ce l'ha e quindi a certo punto ha una gran fame a sé che non ha acqua si accorge che è già pomeriggio inoltrato allora vuole provare a chiamare almeno a casa ma ovviamente non c'è campo comincia a crescere l'ansia l'angoscia la paura che si è stato abbandonato lì sotto e non solo perché a un certo punto scopre anche che c'è una porticina prova a aprirla riesce con un cacciavite a forzarla in quella porti quella porticina porta in un altro sgabuzzino dove ci sono catasti di animali imbalsamati non so se ne uscirà e se riuscirete a uscirne anche voi perché attenzione i vecchi libri sono pericolosi